Ci troviamo alla Sbocca, oggi è il 4 agosto 2018, una muccia tutta sulla piscina. Adesso facciamo il bagno mettendoci dentro la piscina, voglio vedere fino a che punto mi fico galleggiare dentro la piscina a mezzo al mare. Piscina vuota si intende, intorno c'è il galleggiante, dovrebbe galleggiare, la Sbocca eccola. Ora questa è l'acqua del mare perché il fiume non è secco ma poco ci manca, va giù meno di mezzo metro d'acqua, tanto due mesi che non piove non fa una goccia d'acqua, quindi ha fatto solo quella bomba d'acqua di due minuti d'orologio, 120 secondi a Porto Recanati, quant'è una settimana e mezza fa? Se no non ha fatto niente eh? Sì sì sì, guarda un po' il trattore anni 60, andò è che l'ha ne mesto? L'ha ne mesto lì, vedi? Quelli i classici trattorini che negli anni 80 si trovava modellini, che Gioneta c'è giocante il campo di casa sua vecchia, quanti ce n'ha avuti dei trattorini? Qua cosa ci hanno buttato? La mondezza, guarda un po' sacchetti interi di mondezza, guarda, guarda lì, che deficienti, eh? Disgrazie, eh? Eh, creature ingrate contro l'ecosistema, eh, che peccato, guarda, ogni volta che veniamo qua la discarica, la mondezza aumenta, a pensare che qui, lo sai che Babbo ci ha pulito? Eh, ci sono uno tu io, ho pulito, ho tirato su, colto sette sacchetti pieni industriali neri grossissimi, la rubaccia che ho tirato su, non si sa quanta, già è piena un'altra oltre. Sarebbe figo? No. Fare, sai i marocchini quelli lì che vengono, gli aquiloni? Eh. Portano un aquilone, gli aquiloni con, con un sacchetto della mondezza? Con il logo della maglia tua. Ah, che figata sarebbe, sì, sì. Eh, che macello qui. Porca. Guarda che roba, oh, che disastro, quanta plastica per te era. Eh, sì, oh, ti hanno dato l'occhio proprio. Se ne mangiò una cagata. Eh, no, mi sei mangiò uno stronzo de merda. Ste mariole anni sessanta. A me mi hanno dato sull'occhio lì, mi sono sbassato un attimo la testa. Sì, sì. Mi hanno dato sull'occhio. Quanti piace sta merda, ste mariole? Un po', una roulotte anni cinquanta. È vero. È il nag. Piccolissimi. Eh, chi come ha cambiato il corso del fiume? Porca miseria. Guarda un po' che roba, sfocia, però alla me è peggio, quasi niente sfocia. Quasi tutta l'acqua che c'è del mare. Vedi? Cambiato. Porca miseria come cambia. Ogni giorno chi cambia? Anche sul fatto della mondezza. È un mondezzaio. È proprio una discarica totale. Chi si è alzata un bel po' la... Del coso lì, oh. La terra. La terra chi si è alzata? C'è venuto un burro? Ah, perché l'acqua si è sbassata sempre di più. Vedi che chi si è formato un burro? No, è vero. Chi è alto 5-6 metri? Non mi sei. Porca miseria, che cambiamento. De quanto è che non ci venimmo più chi? Qualche... Un mese. Quanto è? Un mese. Sarà due settimane? Tre? Eh, due o tre settimane. Sì, sì, è cambiato completamente. Chi c'era la spiaggia prima? Ti ricordo. Un po' sato. Un macello c'è che io. È uno schifo, eh. Ad è peggio di prima, sempre peggio. Da male in peggio andammo a finire, sempre. Tutto un continuo. Adesso più spazzatura. Eh. Più discariche. Più rocce dappertutto. Tutto chiuso dappertutto. Che casino. Chi non c'è più l'acqua? C'è diventata una steppa lì. Guarda un po'. Ti ricordo che c'era l'acqua. Sì, 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 sì. C'era tanto be' la spiaggia che si andava a giù un girasole lì in mezzo. Chi c'è fa un girasole lì sotto? Chi c'è un girasole? Eh, deve essere con un cuoricino. Ha portato un seme di un girasole lì. Eh, ha perso un seme. Ha portato lì, sbaglio. Eh, sì. Più a caosso. Chi sul cagno lì per privacy si è girato. Eh, no. Guarda un po' la foce. La foce, la sbocca. È diventata una piccola sbocca. Eppure, oh, ce n'è tanta d'acqua che scappa fuori. Guarda un po' come si è stretto il percorso della sbocca. Hai visto, capri? Guarda. No, è sicurissimo. Porca miseria. Ti mi togli l'altra volta con terra larga. Eh, per forza. Tanto è una vita che non piove più. Scusa, va giù. Il campo vede quanto è profondo. Eh, quanta curente. Guarda lì. Ad è qui che ci va giù un sacco di inquinamento, fognature di tutti i tipi, di tutti i generi, detersivi in quantità, chimica delle fabbriche. Ad è ci fanno il bagno negli altri. Così se puliranno queste scarpe. Pronta? Sì. Mi lascio belle scarpe, cucine l'erlavo, che ci manda la vernice, cucina via. L'acqua salata togli la vernice dalle scarpe. Da un me diventa nuove, una volta che le erlavo. hai mai avuto lì. Babbo! Spera! Che sensazione è? Spera una parola, spera. Spera una parola, spera, 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 spera. Sperando che si pulisce il cover mio. Papbo, fermo. Non sta per nuovo? Ci credo. Ti puoi scegli, è il fiume, è il mare. Spera, spera, spera. Papbo, dai, voglio venire a fare il bagno pure io. Dopo, dopo, cucina. Non si è fridro, le scarpe, guarda. Ce devo fare ancora il bagno. Vediamo un po' se va via. Sì, un po' pare che va via, ma non si sa. Non si sa. Papbo, ma ora che andiamo a fare il bagno insieme, te le lascio ancora. Sì, le lascio un po', cucina via tutto. Faccio un po' di servizio. Ho, Kambo, tango, tango. Si, la la la... Grazie a tutti. 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 Faccio come gommone in una piscina alla Ruescio. Grazie a tutti. Sono io in questa vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.